Prima di continuare, ti invito a iscriverti al canale e lasciare un mi piace, grazie. Nell'attesissima puntata di Storie di donne al video condotta da Monica Setta su Rai 2, Flavia Vento ha spiazzato il pubblico con rivelazioni esplosive riguardo a un antico flirt avvenuto nel lontano 2001 con niente meno che Francesco Totti. L'annuncio ha subito catturato l'attenzione del pubblico, lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa della trasmissione prevista in seconda serata il 18 gennaio. Il racconto della Showgirl si è concentrato sul primo incontro con l'ex calciatore avvenuto a casa di Valentino, un momento che ha segnato l'inizio di un breve, ma intenso, intrigo amoroso. Un particolare che non è sfuggito agli occhi dei fan e che ha suscitato grande curiosità riguardo ai dettagli di questo flirt è rimasto nell'ombra per così tanto tempo. Flavia Vento ha spiegato come il suo incontro con Totti abbia portato fortuna alla Roma, culminando con la vittoria dello scudetto in quell'anno. Un aspetto che ha aggiunto fascino alla storia e che ha suscitato emozioni nei tifosi romanisti, che ora si trovano a rivivere quel periodo sotto una nuova luce. Le domeniche allo stadio sono emerse come un tassello fondamentale di questo capitolo della vita di Flavia Vento. La Showgirl ha rivelato di aver frequentato gli stadi con regolarità, costruendo ricordi indelebili legati a quel periodo. Un ritratto affascinante che aggiunge dettagli intriganti al già complesso quadro di questa relazione.